L'amore è molto importante per tutti voi, per questo dovete amare sempre. Sforzatevi di seguire l'esempio del Figlio di Dio, Gesù Cristo, che volle salvare il mondo mediante l'umiliazione della croce, per amore di tutti voi. Se non amate, non farete parte del Paradiso promesso. Quindi amate, amate, amate. Non custodite nei vostri cuori sentimenti di odio o desideri di violenza, ma cercate di imitare, sia nell'esempio che nelle parole mio figlio Gesù. Mio figlio è il vostro grande amico, e si aspetta da voi un comportamento santo, che non offenda i vostri fratelli e, soprattutto, il Cielo. Grande è il mio desiderio di vedervi crescere nel cammino dell'amore. Non tiratevi indietro. Affidatevi a me, con totale fiducia. Io sono vostra madre e sono venuta dal Cielo per offrirvi la possibilità di tempi di pace e speranza. Quando sentirete l'amore di mio figlio nei vostri cuori, riuscirete a imitarlo e adorarlo incessantemente. Se vi abbandonerete interamente nelle mani del Signore, sarete capaci di comprendere il suo grande appello. Venite a me. Egli è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. È Lui che sta a braccia aperte in vostra attesa, perché sa che vi ha creati a sua immagine e somiglianza. Credete nel Santo Vangelo. Chiederò a Dio Padre che non vi faccia mai mancare la parola viva, che vi purifica, ed è per voi principio di conversione. Attraverso di essa, iniziate a trasfigurarvi e anticipare la vostra convivenza con il Padre, nell'aspettativa della visione profetica dell'eternità. Se ogni mattina aprirete il Vangelo, mio figlio vi dirà nel più intimo del cuore. Io sono la via, la verità e la vita. Desidero ardentemente la tua salvezza. Sono io, Gesù, il tuo Salvatore che parla, ascoltami. Io sono in tutto ciò che rende la tua vita felice o difficile. Sono io per la fede, per la speranza, per l'amore. Sono io nel fondare una famiglia. È la vocazione della maggior parte delle persone. Sono io nel servizio ai tuoi fratelli, nella solidarietà con il tuo popolo, è la vocazione di tutti. Sono io nella consacrazione della tua vita come sacerdote, come religioso o religiosa. È la vocazione di alcuni affinché la mia presenza sia espressa nella mia Chiesa. Così il vostro dialogo con Lui crescerà giorno dopo giorno, e sicuramente la vostra vita cambierà. Il Vangelo apre all'umanità prospettive di pace, proprio in ragione del comandamento d'amore che vi ha dato mio figlio. È fonte di vera pace con Dio, perché è il Padre che è all'origine di tutta la pace presso gli uomini. Pregherò perché siate ricolmati dello spirito della pace di Cristo, affinché diventiate costruttori di pace e di solidarietà. La parola di mio figlio vi fortifica e vi dà coraggio. Impegnatevi, voi tutti, perché il Vangelo di Gesù sia vissuto da tutti coloro che lo cercano. Alimentatevi della parola di Dio e dell'Eucarestia. Affrontate con coraggio e speranza i momenti difficili e le prove della vita, incluse le tentazioni, e superatele per quanto possibile con gioia. Con grande fiducia nella mia straordinaria protezione, andate avanti senza scoraggiarvi. Rispettate i sentimenti dei vostri fratelli e mettetevi a disposizione dei più carenti. Se farete come vi dico, Gesù vivrà sempre di più in voi e diventerete sempre più suoi strumenti. Come costruttori di pace, di fraternità, di vero amore, di solidarietà, perché non sarete più voi ad agire, ma sarà Gesù che vivrà sempre più dentro di voi. In questo modo l'amore sarà sempre più compreso, e in voi avrò già il trionfo del mio cuore immacolato.